Musica Bentrovati telespettatori di TVSERA appuntamento con le previsioni meteorologiche per sabato 12 novembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa intensa perturbazione artica a portare fenomeni di stabilità principalmente sulle regioni centro-settentrionali. Nel dettaglio, il mattino sull'Abruzzo avremo condizioni di debole stabilità principalmente lungo la fascia costiera e collinare, mentre nelle zone interne del versante occidentale avremo condizioni di tempo stabile accompagnato da cielo coperto. Le temperature inoltre risulteranno in sensibile diminuzione. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un netto miglioramento con i cieli che si mostreranno nuvolosi o poco nuvolosi su gran parte del territorio, ad eccezione del basso chietino dove potremmo avere ancora deboli piogge. Tuttavia la ventilazione risulterà forte o molto forte proveniente dai quadranti settentrionali. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche risulteranno stabili su tutto il territorio con i cieli che si presenteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!